Intorno alle 5 di questa mattina la Polizia Municipale ha trovato aperto il portone principale dell'assessorato comunale all'attività sociali e pari opportunità di via Garibaldi 26 a Palermo. Sono subito scattate così le verifiche del caso per constatare se si fossero verificati all'interno dell'edificio atti vandalici o furti di qualsiasi genere. I dipendenti, giunti sul posto di lavoro, come ogni mattina, hanno così trovato l'ingresso dell'assessorato piantonato dagli agenti della Polizia Municipale e sono stati costretti a restare fuori in modo da consentire agli uomini della Digos di condurre tutti gli accertamenti di rito. Sul luogo si è recata anche l'assessore all'attività sociali Agnese Ciulla. Stiamo verificando se tutto quanto è a posto. In questo momento sembra che non ci siano segni di affrazione o di manomissione. Per cui adesso verificheremo anche accendendo i computer se è successo qualcosa. È stato trovato il portone aperto stamattina? È stato trovato il portone aperto stanotte e quindi è stato piantonato l'ingresso dalla Polizia Municipale fino ad ora, sono ancora qui, abbiamo la Polizia anche di Stato e quindi abbiamo fatto già tutto il giro del palazzo. Sembra che non ci siano manomissioni almeno eclatanti. Non c'è niente.